Se indovino il calciatore dall'emoji lo compro su FIFA Ma se sbaglio dovrò comprare un bronzino E se perdo scarto la squadra Passa su fifagoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto Link in descrizione Salve a tutti ragazzi e bentornati dai show Siamo tornati con un video sul calcio Ma anche un po' FIFA, ma anche un po' quiz per fare qualcosa di diverso Oggi andiamo a indovinare i giocatori dall'emoji Ce li porteremo in squadra Prendiamo bene Vai iniziamo Pallone d'oro, Francia e Real Madrid Beh ragazzi qua non ci sono dubbi E Karim The Dream, Benzema Vabbè ma che si sono facili Però aspetta, ma Benzema costa un fracco Di Benzema c'è il Todi Andiamolo a prendere, magari pagandolo meno Dei milioni e sei, mannaggia la buvazza Andiamo a mettere Karim The Dream Dentro direttamente in questa formazione Mamma mia raga, per il contenuto Si parte bene Vabbè ma sono facilissimi Gesù, Arsenal, questo è One Jesus No che One Jesus, no no scusa Gabriel Jesus, Gabriel Jesus Eh si ragazzi, eh si Vabbè è abbastanza semplice Gabriel Jesus Mettiamo quello con la stessa foto Mamma mia quanti soldi sto a spendere Oddio Colosseo e il diamante Mi verrebbe da dire Di Bala ma non so perché No, diamante che è? No, no, aspetta L'ho azzeccata Perché diamante Di Bala? Forse perché è tipo il diamante a Roma E soprattutto Perché io della Lazio Quando ho visto il Colosseo Ho pensato alla Roma e no alla Lazio Di Bala è l'inspiegabile Lo voglio mettere attaccante Vabbè questo è facile Guarda ragazzi Ma sono troppo facili Così la squadra me la faccio tranquillamente Oddio aspetta Io dico Declan Rice Il centriampista del West Ham Però ci sarebbe pure Rice del Chelsea Vabbè però no questo è Rice del West Ham Eh sì Vabbè risotto Ti devo dire Lo mettiamo là dietro Fa la legna Ci potrebbe stare Questo però fa solo il CDC Ma dai FIFA Robin No sì van persi sì Gosens Robin Gosens Dell'Inter Olè Vabbè ragazzi Ma l'ho troppo forte Tanto quelle emoji chi ce l'ha? Leone Muscoli E Bayern Monaco Anche questa ragazzi Troppo facile Questa è Goretzka Oh giocate anche voi eh Spero che sia Goretzka Però si chiama Leon Leon Goretzka Ponce de Leon Ricordiamoci Uomo del mister d'altri tempi Dico Reska Mettiamo quello normale Perché costa troppo Gosens Lo mettiamo terzino sinistro Assume pure una certa Intesa eh A parte Riso Che dovrei metterlo CDC Ma dovrei fare un bordello De cambi e non me va Speriamo le difensori centrali Francia Barcellona Serpente Koundé Però perché il serpente? Oh Koundé Ah perché quando segnava così Allora raga Ho detto Koundé Perché ho pensato a un francese Del Barcellona Pensandoci bene Poteva essere Dembélé L'ho zaccata Sì Affagiolo Koundé Terzino destro If Lo prendiamo Lo mettiamo là Massa Una bella bestia brandona Ok Manca farla apposta C'è stampa di intesa Stones Roccia Manchester City Eh sì Oh ma sono sempre un po' facili ragazzi Uuuuh Bella questa Erling Hollande Majin Buu è uguale Alla versione quella trasformata Noi avevamo già due attaccanti Spiazze per Hollande Non so se metterlo o no Qui Balletto Brasiliano Del Real Madrid Questo è Vinicius Junior Però è un po' particolare Perché potrebbe essere stato pure Militao Per dirvi no Tanto per scontato che fosse lui Vinicius Ok Daffy Duck Francese Fair Monaco Avar No Potrebbe essere Comanna Comanna No Lucas Hernandez Che cacchia gente Perché Allora scelgo io però dove metterlo il bronzo Sarebbe stato terzino a sinistro il bronzo Lo mettiamo a S Oddio no Ma noi conosciamo Un bronzo esterno sinistro E' tornato Zhang Shuying Zhang C'ha detto Lo posso mettere addirittura a S Vai amico mio Il giocatore più scarso Tre partite un gol Attenzione Trovate il video in alto 53 di velocità 44 di tiro 44 di passaggio Una pippa al sugo Eppure destro La cosa bella Ragazzi Che sia proprio lui Che sia Sergio Ramos Per forza Parigi Cartellino rosso Barba Il sergione nazionale Montagna inglese Meso Mount Porcazzuzza Dobbiamo mettere il portiere bronzino E andiamo a mettere lui The bus South Park Signore inglese Southgate Kyle Walker Ah è vero Kyle Certo Questa era bella Kyle di South Park Un tizio che cammina E inglese Kyle Walker McDonald Barcellona chi è? Un pagliaccio del Barcellona Piché non gioca più Araucio Ah Ronald Vabbè dai Mo' sta andando a diventare difficili però Oh ragazzi Ma tutte le volte La difesa Ce l'ho tutta a bronzo Ah no Non è vero Non ce l'ho a bronzo Ah no Finita la formazione Luigi Italiano Paris Saint Germain Questa è Donna Roma Oddio Mate E Liverpool Potrebbe essere Darwin Nunez Perché sai Vedi i sudamericani Eh sì Eh sì Oh Spiderman E l'argentina Questa è La ragna Julian Martinez Andovinati tutti I co-X Topolino Perché Topolino Mkhitaryan Ragazzi Mi sto perdendo qualcosa Topolino Mkhitaryan Noi ci avrei messo Albano Non so se lo sapete Ma tipo Albano Ha cantato Dal matrimonio Del Mkhitaryan Cose così Tutti i ragazzi Giraffa E Courtois Sìììì Questo era difficile Quello è il premio Per il miglior portiere Questo è sci Slovacco Aheh Skrignar Ah skrì Ma non è skrì Oh quello era tosto Dovranno fare cose Un po' più così Oh le ho zecate tutte Ragazzi Incredibile Questa è la formazione Che siamo riusciti A costruire Devo dire Manco male Però Visto che verso la fine Ne ho sbagliate tre E mi fa andare da schifio Sono un uomo d'onore Perciò vado a togliere Rice Che comunque ha il punto sclamativo Lo vado a sostituire con un bronzino Per rendere la cosa un po' più fresca Torna lui a Sif E voi direte ma pure lui c'ha il punto sclamativo A Sif non si tocca Con questa formazione andremo a giocare Se perdiamo scartiamo tutta la squadra Ma con un twist in più Benzema deve fare almeno 3 gol E soprattutto abbiamo 2 partite per far segnare almeno un bronzino Vai ragazzi Oh Juventus va bene Dobbiamo essere bravi a difendere il nostro portiere Eeeh 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 Vabbè Juventus attacco della Juve C'hai ragione tu Dobbiamo essere attenti Dobbiamo essere bravi Non è il nostro campo Quindi benissimo si inizia subito Alla grandissima Vai 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 Robin Gosens Oh Robin Gosens L'abbiamo andato al baretto Noi ci abbiamo Karim The Dream là davanti eh Sarà un bel modo per provare un Totti dopo tutto sto tempo Karim The Dream La fa giro Porca vacca cita Oh occhio lui ragazzi c'ha una difesa un po' così eh Ecco benissimo Paolino No dovevo tirare una saracca Maledetto campo Dove vai ragazzi Difesa con stones Uuuu Benzema la fa passare Vai Zeng Vai Zeng Che cribbio era Zeng Che schifo Quanti ragazzi che voglio dire Con un attacco del genere i gol possono accompagnare solo La bassa ricordiamoci che c'ha 28 di reazione Tu gli diri praticamente si butta il giorno dopo La partita dopo Vai Zeng Vai Zeng Lo aspetta Zeng Eh mamma mia che ha aspettato ancora Zeng ZANG OOOOOOO La sfida dura solo tanti minuti ZANG 47 Questo nostro gioco è il mio Solo nei back opening sono stato spiegato Per il resto questo gioco non ha segreti guardalo ZANG Guardalo ZANG Ancora ponze delle on verso ZANG E addirittura con il tacchetto Oddio Karim The Dream Pallo albero Allora chi c'ho che tira bene le punizioni Addirittura del pala Non me lo sarei mai aspettato Un po' troppo Un po' troppo Paolo Un po' troppo Paolo Come The Dream Non può tirare The Dream Ragazzi Sta partita per me è già finita STUNCE Madonna che piedi Vabbè però adesso la sfida è far segnare Karim The Dream OOOOOO Ma che paura Maì Sì Rovella Perché non si accontenta Che ci faceva Rovella lì Ne godo e ne gioisco Oh Mamma mia Ken Che te sei mangiato C'era il portiere mio Che non si è accorto di niente Comunque raga è orribile giocare con sta Se no vai Con sta telecamera è orribile giocare No Fermatelo Tu pass No da pass Come si chiama Ci ha messo le mani Va bene così Da pass Non me l'aspettavo Vai zang Vai zang Vai zang Vai zang Vai zang Sei destro lo so Vai zang con il destro Mamma mia Oh ragazzi ma è un giocatore rinato A parte che ha finito l'aria No 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 Mosè 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 Sì Ciao Ragazzi noi abbiamo Gesù E non lo stiamo sfruttando E è Kunde Ovviamente Non era qua Non era LUIS Ragazzi non è successo niente Perché non mi ritrovo Con sto campo Sto troppo in basso Vedo vedere il campo da più in alto Bucazzo Kunde Kunde corre come un matto proprio Vai a Sif Bello sto bucazzo Sto bucazzo pazzo Ma c'è Sergio Ramos Ragazzi non si passa Una difesa che difende Il suo portiere Ci ha dato anche prova Maz Belli sti calcitangolo Bello Beh no vabbè Benzina Oh Karim Oh no Karim Troppo Karim Vabbè Solo riprende su Teo La sportellate La derim lì Riprende dream Mamma mia ragazzi Che giocatore Che giocatore Ho fatto una minchiata sul secondo scatto Ma siamo ripresi Dai De 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 Con De corre come un pazzo Ragazzi Il portiere non c'era Karim il pallone d'oro Io chiedo Bailar Guarda Zang Totala noce Totala noce Zang Qua di Maria C'è buca Buca Sif Buca pure da basso Peccato ragazzi Peccato No che è Di Bala Ma che sta a scrivere No No Portiere Mettici le mani Ma che vuol dire Sto gol di novella De Operiamo Il nostro vantaggio Da 2 a 0 A 2 a 2 In Tre caccole Mi sa che ha capito Che deve solo Tire in porta Questo ragazzi Non si può perdere Ragazzi Non si può perdere Da che è buona Da che è buona Spacca la porta Karim La rimette dritta Karim the dream Sam Ma rischiava Se si perde qua Scarto 4 milioni De squadra E 3 e 6 È solo Benzonà Direi di no Coscienti che non li dobbiamo Far arrivare al tiro Oddio Ecco Ah stones C'è le pietre Al posto dei piedi No che fa quello Che è Sif Ah beh Allora si è spiegato un po' tutto Oh Affare sportellate Ah Bravo Sif Dove l'ha sentata a prendere Quella palla Gesù Gesù Giuseppe e Maria Donde Porco Ciuta che aveva tirato Una primizia proprio Allora ancora A tirare Fa un ligno di bala La fa giro Karim Spacca la porta Karim Con la testa Vado allo De dream In faccia Lusio E Lusio Se siete Se viene Camo Mila Uh Se ne è nato No Portiere che fa Ma cosa fa Ma si contenga Cribbio Asif Asif Non perdona Zang Non è vero Doppietta di Zang 47 ragazzi Non è il numero della moto Tipo Valentino Rossi 46 È l'overall Al netto di difficoltà strutturali lecite Poi la differenza la fanno i campioni Quindi Zang ne ha fatti due Oh Guarda guarda che numeretti A rallentatore Voglio la messa Oscar ragazzi Ma Zang che è diventato Ma è il presidente dell'Inter Quello che si voleva bombare Melissa Sat E non ci è riuscito Deo, 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 Deo Deo, Deo, Deo Bello Questo tira, questo tira Oh cazzuolo di mio padre Questa non si poteva parare 5 a 3 Ma direi che la squadra ce l'ho bella ancora nel club Dai Oh oh Eh no che mo' Mi prende tutti insieme Oh 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 Posso ancora farne uno Sì sì Porco tu E voi robè Buon Natale Guarda da bassa dice spazza sta palla Che giocatore fantastico Come la palla a casa se la porta Karim The Dream Con 3 gol Oh tra l'altro ragazzi Siamo riusciti a fare la sfida In una partita sola 2 insieme a 3 E Zang 2 Minchie Ma noi dobbiamo arrivare a 10 minuti Perciò speriamo che questo Ok Vabbè 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 Oddio regà Quello penda a 98 di velocità A parte basta che uno prende la porta Noi dobbiamo difendere il nostro portiere Forza Ma questo guarda come penda eh Oh penda Oh penda stu penda Ma noi vi facciamo così Lo mandiamo al balè Eh con i balè No Albero Quello era rosso Rosso Andavo verso la porta Era finita già la partita dopo un minuto Ma no ragazzi Ma no signor albero Tra l'altro non abbiamo per niente sfruttato Mamma mia Gabel Jesus Benzema ogni tira un gol eh Secco Fufana Eh oh Che è sta tattica Sta tattica da animale Oh Oh fermatelo Dubal Da bus Come si chiama questo Da bus Dal basso verso l'alto Ci mette la manona E dice no E me sai Coulibaly oggi fa le straordinarie ragazzi Jesus Wan No non è Wan È Gabriel Dice pronto polizia Devo denunziare un furto È quello di Dybala Che non ha senso in questa squadra Però vabbè Gabriel Us Guarda Anzecca una Non stesca in passaggio Non anzecca Eh Openda Eh Annaccia Ammazza come Me l'ha un sacco Eh no Amico mio Stai perdendo Aiuto Oh ragazzi Questo sta a giocare Aggressivo Pensavo sarebbe stato tutto facile facile Invece sta a giocare Eh ma con la siffa che ti manda al baretto Però la vuoi giocare fino a un certo punto Fino a un certo punto te la puoi giocare Ora kunde che sta più alto Di Gabriel Jesus E alberù Ma dei falli non li fischi Mike No vabbè La siffa col suo piede Col piede forte Mazza forte Penso al debole com'è No oh 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 Però ragazzi Sti difensori Possono giocare così eh Ah siff Di sicure Sì vabbè Dabas Di sicurezza Guarda che rilancio Chilometrico A far correre Leon Goretzka Verso l'altro Fenomeno Zang Rientra Zang Oddio Mbareto C'è Gabbiele C'è Gabbiele E mo gli si risulta in faccia Gesù Bambino Vabbè diciamo ragazzi che La cosa strana lì È che non abbia segnato Benzema Olè Paolino Poli Che ci saluta Splash Splash Oh no Oh no Ragazzi è una congiura Conto di me Non vogliono Che io arrivi a 10 minuti Però allo stesso tempo Non vogliono neanche Che io non scarti la squadra Sì sì Eh eh Fallo signore Questo me lo piglio E come Questo me lo prendo E come Eh Sandro Hai fatto la cazzata Sandro Non t'aveviamo male però Questa è buona Questa è buona Paolino No la presa Mannaggia il ca Sergio Ah no Che Karim La soviata Tranquilli Che sto A chi Segna Karim Ragazzi Ma guarda Zang Che passaggi Eh no Nesta sotto la doccia Sotto la doccia Tanto c'è una 3-4 Le difensori Oddio Stones De rovesciata Che sta succedendo Qui Rigore albero Rigore Rigore Giusto No Ho fatto fallo io Ma what the fuck Facevo la palla Come ho fatto a far fallo io Da bass Da bass Senza paura Da bass Da bass senza paura Ti devo dire Oh sprint busta Pena in fondo Da bass No E se la dirà lui E la dirà lui E la dirà lui La dirà lui Gli devi fare la foto Questa dovrebbe essere Una bella foto Eh dai Eh dai Paolo Di Bala Una punizione Chirurgica Buttato dentro Portiere Giocatore Tutti Sang Sang Con l'accelerazione Sang 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 Con l'accelerazione Sang 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 Mie No Con la faccia No Che è fatto Questo si è spostato No Portiere Gavi Mutingai Mi ha segnato Meridevole Oggi Da bass Meglio in attacco Che in difesa Addirittura con Bampersi Sta giocando Sang A due all'ora Eh Vabbè A due all'ora Asif Senza problemi Asif Senza paura Lungo verso Zang Che mannaggia Oh lo sa Aspetta Aspetta È una bella sfida È una bella sfida Lì Asif Asif L'avevo visto No Avevo pure fatto Il time at rosso Mamma mia Incredibile Karim The Dream Ragazzi Incredibile Asif Ragazzi Che giocatore Monumentale Paolino di Bala Ma giusto per mettere Sul 3 a 1 E divertirsi Col power shot Così D'esperienza D'giustezza Di forza E volontà Sanghino Sanghino La difesa schierata Non ha paura E problemi Oh Zang Ricordiamoci Che i suoi piedi Sono a due sinistri Lasciali a terra È spiegabile Sta roba Raga Eh questa me la leva Questa me la leva Non me la leva Eh no Eh no Me la piglio Raga Me la piglio Non me la devo andare a segnare Con Benzema Deve segnare da basso Mi ricordo Ed Warner Nei tempi migliori Guardalo Me l'ha scacchiato Questa goal Ah no Ci ha messo un uomo Nascia Uh Asif Ma sei pazzo Tiri ste breccole Comunque fossi lui Avrei molta più bella figura E qui te rei No Più forte di tutto e tutti Dibba Eh beh giusto Vabbè ragazzi Sfida vinta E anche stavolta Non si scarta Nessuno A parte Benzema Andiamo a vendere